Allora, le moschee, per chi conosce un pochettino l'islam, non sono assolutamente un luogo di culto, non sono paragonabili, sono paragonati in termini questi sì populistici alle nostre chiese, ma così non è. Atti della magistratura ci dicono che le moschee spesso e volentieri sono luoghi di fondamentalismo islamico e di proselitismo, dove non si parla in italiano per cui non si conosce assolutamente quello che si dice. Perché noi vogliamo chiuderle? Vogliamo chiuderle innanzitutto per questo motivo. Il secondo motivo è che noi ci troviamo di fronte ad un stato, ad un fondamentalismo islamico, al terrorismo islamico, che ci ha evidentemente dichiarato guerra e noi non possiamo avere in casa nuclei di fondamentalismo islamico. ed è dimostrato, la moschea di Vialeia Nera Milano, altre moschee, ci sono case a Cremone e quant'altro, che questi sono luoghi di proselitismo ed è per questo motivo che noi vogliamo chiuderle.